Simone, si è avuto un'altra stagione, una stagione non semplice per come è andata, ma che alla fine qualche soffazione l'ha portata. Buoni risultati, la vittoria nel secondo derby, una vittoria esaltante per come è arrivata, una crescita che pone in moda nell'ottavo posto, cosa che da queste parti la merce rara. Sì, direi che siamo partiti molto bene all'inizio dell'anno, abbiamo fatto un ottimo inizio di stagione, poi abbiamo avuto un piccolo calo subito dopo la ripresa del campionato e poi direi che alla fine ci siamo ripresi alla grande e abbiamo dimostrato di essere un'ottima squadra. Gli impianti ve ne sono però? Ma se guardiamo la classifica probabilmente un po' di rimpianti ci sono, anche perché il Varese ieri ha pareggiato, quindi se noi avessimo vinto le ultime due partite saremmo a pari punti col Varese e ce la saremmo giocati magari l'ultima giornata, però purtroppo ormai non possiamo più fare niente, quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno, perché comunque come hai detto tu abbiamo fatto un ottimo campionato ed era da un po' di tempo che Modena magari non si piazzava tra le prime là in alto, comunque ottavo posto direi che è un'ottima posizione. Momento migliore e momento peggiore dell'anno? Ma direi che è un momento migliore sicuramente come ti ho detto prima, la prima parte del campionato, perché comunque nei giorni d'andata abbiamo fatto un sacco di punti, è un momento peggiore subito dopo la ripresa di gennaio che abbiamo faticato a ritrovare un po' noi stessi. Per quanto riguarda Novellino, cosa ha dato in più in questa stagione, quando è arrivato 10 gare fa, la sterzata da cosa è stata data? Ma guarda sai benissimo che comunque quando arriva un allenatore nuovo c'è comunque voglia di fare bene, di riprendere quello che magari si era perso, quindi lui non ha fatto altro che magari lavorare un po' sulla testa per farci ritrovare la serenità, che forse era l'unica cosa che ci mancava prima, perché comunque il gioco abbiamo dimostrato più volte di poterlo fare, di dimostrare comunque che avevamo un ottimo gioco. Nei momenti di difficoltà ci è mancato soprattutto quello, ma probabilmente era dovuto al fatto che non eravamo più sicuri come eravamo prima. La tua stagione come la valuti? Ma la mia stagione la valuto positiva, perché comunque ho avuto alti e bassi, però comunque alla lunga sono venuto fuori e direi che sono arrivati in crescendo. Tu sei fra i sei non ragazzini che hanno ancora un anno di contratto con Modena? Sì, io ho un altro anno di contratto, siamo in pochi, ma direi che a Modena ormai è la routine, tutti gli anni rimaniamo in pochi, poi la squadra viene rifatta e quindi direi che non ci saranno problemi sotto questo punto di vista. Il tuo spiccio è che in quale squadra vorresti giocare? Ma guarda, sinceramente non toccherà a me fare la squadra e tutto, però sicuramente se ci sarà la possibilità di fare un'ottima squadra come è stata allestita quest'anno ci potremo togliere delle belle soddisfazioni. Il titolo Gozzi, voglio vincere, ci può stare? Ma ci può stare, perché comunque quest'anno abbiamo fatto bene, magari era un anno così in preparazione, ci può stare che magari l'anno prossimo proviamo a fare qualcosa di più importante. Grazie. Grazie.